salve amici in questa puntata parleremo di mal di schiena chi mai di noi non ha mai sofferto di questo dolore così acuto così forte così invalidante soprattutto sul luogo di lavoro o anche perché no durante l'attività sportiva bene durante questa puntata ne parleremo con un vero professionista un amico dell'associazione farm e benessere fisioterapista il dottor Antonio Sepi anzi andiamo a guardare subito il servizio preparato dalla nostra inviata Anna Rapoli sappiamo che il mal di schiena è una patologia molto comune ed è stato dimostrato recentemente che il 97 per cento degli italiani ne ha sofferto almeno una volta nella vita così portando alcuni problemi sociali ma soprattutto anche di ordine economico ma perché è così frequente soffrire di mal di schiena allora partiamo dalla colonna vertebrale nella funzione principale della colonna vertebrale è quella proprio di sostenere il peso del capo e del tronco e di conseguenza garantire anche una certa stabilità a tutta la parte superiore del corpo quindi il tronco e gli arti però la colonna vertebrale quotidianamente è condizionata da alcuni fattori quali la forza della gravità fattori lavorativi attività lavorative oppure la ripetitività dei gesti quotidiani se a questo poi associamo uno stile di vita sedentario stress fattori psicologici o degenerativi tutto questo poi si trasforma appunto in una sofferenza a carico della colonna lombare e di tutte le strutture che la compongono quindi il mal di schiena non consideriamolo più come una patologia locale ma come proprio il risultato di una serie di fattori che poi producono dei sintomi o meglio degli squilibri in varie parti del corpo che nel tempo poi si trasformano in dolore e rigidità muscolare capito e nella letteratura medica il mal di schiena viene classificato in diverse patologie che vanno dalla lombalgia acuta subacuta cronica artrosi fino ad arrivare alla cosiddetta ernia del disco ma l'ernia del disco deve sempre essere operata facciamo una piccola premessa oggi è stato dimostrato che un quarto della popolazione mondiale soffre di protrusioni o di enie lombari però asintomatiche nel senso che non danno nessun tipo di dolore perché non vengono coinvolte tutte quelle strutture importanti della colonna vertebrale le meningi le radici nervose il midollo spinale ecco quindi se non solo coinvolte queste strutture l'ernia asintomatica quando invece subentrano quei dolori articolati quei dolori neurologici oppure quei disturbi a livello degli arti inferiori allora l'ernia del disco diventa una patologia che bisogna trattare che cosa succede però nella nostra colonna vertebrale quando abbiamo un'ernia del disco con l'occasione ho portato un modellino eccolo qua abbiamo la nostra parte diciamo di colonna vertebrale questo è l'appunto l'anello fibroso e al centro dell'anello fibroso noi abbiamo una piccola pallina diciamo che è composta al 90 per cento di acqua di gel quando questo nucleo polposo comincia a livello posteriore abbiamo vediamo il sacco dorale dove sono i meningi le radici nervose quando questa pallina questo nucleo polposo comincia a spingere verso queste strutture posteriori e comincia a lasciare il disco si parla di protrusione ma se questa situazione persiste nel tempo la produzione si trasforma in ernia e va a toccare va a intrappolare la radice nervosa e in questo caso quindi dando una patologia da trattare però non sempre chirurgicamente cioè dapprima si provano i trattamenti conservativi farmaci medici fisioterapici se questi falliscono allora l'ultimo intervento diventa poi per forza l'intervento chirurgico a questo proposito mi chiedevo cosa dobbiamo fare quando abbiamo il mal di schiena forse è meglio dire cosa non dobbiamo fare quando abbiamo mal di schiena la prima cosa da non fare è il riposo cerchiamo di non stare a riposo il riposo fa male alla schiena i dolori vertebrali ne beneficiano del movimento dell'attività perché evitano proprio l'indebolimento del muscolo aiutano i tessuti a riparare più in fretta quindi cercando di tenere uno stile di vita attiva di non stare troppo tempo seduti di non mantenere posizioni ferme per molto tempo di non come dire subire il dolore come una fissazione ma piuttosto affrontarlo quindi dolore può diventare un termometro che ci dice cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare e inoltre non abusiamo di farmaci i farmaci si è vero levano il dolore però non è che guariscono il farmaco aiuta soltanto per il momento del dolore però la causa persiste e fine diciamo non precipiti precipitiamoci subito al medico a chiedere accertamenti lastre risonanze magnetiche tac perché alla fine ci dicono soltanto di una situazione momentanea e una fotografia del momento però non ci spiegano e non ci dicono qual è la vera causa del dolore e quindi la fisioterapia aiuta a guarire o addirittura a prevenire il mal di schiena certo la fisioterapia aiuta a guarire a prevenire il mal di schiena ad esempio quando mi arriva un paziente che ha mal di schiena io la prima cosa che faccio nella valutazione diciamo iniziale è quella di andare a vedere quali sono gli abitudini del paziente ok quindi andare a scoprire ricercare quali sono quei fattori che poi hanno provocato questo squilibrio questo scompenso è utile anche certamente leggere gli esami strumentali ok però diciamo che fondamentalmente è importante l'approccio è andare a scoprire qual è la causa che poi ha provocado il problema poi si passa al contenimento del sintomo al trattamento della causa oggi la letteratura scientifica ormai ci dice che ci sono delle terapie molto valide nell'approccio del mal di schiena si parte dalla terapia manuale che è utile proprio per andare a togliere allevare tutte quelle tensioni muscolari quei squilibri che si creano quando c'è un mal di schiena alla rieducazione motoria dove si fanno tutti quegli esercizi proprio per andare a recuperare la mobilità articolare vertebrale e infine la rieducazione posturale educazione posturale e diciamo è un po la terapia di eccellenza perché va proprio a lavorare su quegli scompensi va a correggere quegli scompensi che nella stragrande maggioranza dei casi sono il vero la vera causa di un mal di schiena lo scompenso posturale grazie per la sua disponibilità grazie a voi grazie anna grazie al dottor siepi spero siano stati chiariti molti dei dubbi dei nostri telespettatori da questa intervista ovviamente per approfondimenti informazioni o anche altre notizie o delle semplici domande vi invitiamo a contattarci tramite la nostra mail farmabenessere chiocciolalibero.it o perché no a inviarci un messaggio su whatsapp tramite il nostro sito www.farmabenessere.it da cui potrete scaricare anche la nostra applicazione android per cellulare e quindi averci sempre con voi che si chiama my personal farm grazie di averci seguito e di averci preferito alla prossima puntata www.farmabenessere.it